ciao a tutti stelline ben atterrati sul canale allora questo è un video molto breve dove voglio farvi vedere che cosa andrà più di moda l'autunno che sta per arrivare i colori soprattutto e prima di dirvi quello vi faccio vedere anche questi che sono i colori che metto in questo periodo ora che mi sono un po ripresa ovviamente anche dal covid qui c'è una bellissima magliettina che vi avevo anche già fatto vedere ma sono colori stupendi che vanno moltissimo in questo momento e questa bella camicina ha manica lunga io la abbinerò con un giacchino che vi faccio subito vedere eccolo qua che qui è abbinata con il grigio vi faccio anche vedere gli orecchini con cui voglio abbinarlo perché sono questi qua un bellissimo color borgogna sapete perché vi parlo già di questo color borgogna indovina indovina indovinello perché sarà il colore di grandissima moda per questo autunno e ora ve lo faccio vedere ho già preso una magliettina stupenda che voglio indossare appena inizieranno i primi i primi freschi il primo diciamo periodo in cui farà più freschino ed è questa è una splendida magliettina di franco bombana eccola qua io ho preso una s e guardate quanto è carina tutta vedete che è in in questa maglina molto morbida ancora abbastanza leggerina perché vedete che ve la faccio vedere ma è quasi trasparente traforata molto molto carina guardate quanto è bellina e io penso che questo colore lo abbinerò appunto tantissimo con il rosa di questo set ho anche la magliettina con la manica lunga questo qui è il sotto giacca ve l'avevo già fatto vedere in un altro video ma meraviglioso questo colore ve lo metto proprio in evidenza perché è il colore che vedrete dominare completamente l'autunno è un bellissimo color borgogna un punto di tra il vinaccio e il viola molto molto bello sulle bionde sulle rosse è stupendo diciamo che chi ha i capelli scuri forse muore un po come colore ma basta poi ravvivarlo con dei bei rosa come questo per esempio dei bei rosa salmone per esempio una bella camicina qua sotto oppure appunto una giacchina un po più pesantina tipo questa che ha un bellissimo color questo rosa salmone stupendo che sta molto molto bene con il color borgogna quindi volevo darvi già questa chicca in anteprima poi basta qualche dettaglio un fulare un orecchino per andare a ravvivare il look e quindi non serve spendere tantissimi soldi per fare magari dei completi interi in color borgogna un altro invece capo che voglio farvi vedere che metterò e che ho preso che sarà tra le prime cose che metterò quest'autunno è un bellissimo pantalone sempre in color un bellissimo color non dico borgogna ma proprio un bordeaux che è questo e questo è un bellissimo pantalone che ho preso questo è un pantalone palazzo ho preso una taglia 42 anche questo qui ha un bellissimo punto di bordeaux colori appunto dominanti però diciamo che il color vinaccia questo qua sarà quello proprio che vedrete spopolare veramente dominante anche questo è un bellissimo colore mi piace moltissimo perfetto per l'autunno questo pantalone ha la sua giacca uguale che non posso farvi vedere in questo momento perché è in lavanderia però vi dico che è una giacca avvitata in vita con la spalla bella larga avete visto che sono tornati di moda le spalle non dico proprio come gli anni 80 ma quasi io non amo tantissimo quelle spallone veramente enormi alla goldrake però diciamo che seguire un pochettino il filo della moda non va mai male quindi andare proprio contro tendenza non non è non è l'ideale sono giacche molto costruite quelle che vanno di moda quelle che andranno più di moda quindi avvitate in vita ben fatte che danno una vestibilità veramente buona che rendono il fisico elegante che vi danno subito un vostro perché diciamo così quindi i colori assolutamente di moda di gran moda sono questi volevo semplicemente darvi questa chicca diciamo così questa dritta e ora vi faccio anche vedere che con che cosa voglio abbinare questo tipo di abbigliamento per i primi per i primi freddini i freddini che poi diciamo si fa per dire ecco oggi è martedì ha piovuto quindi diciamo che proprio caldissimo non lo fa il profumo che voglio abbinare che secondo me è veramente perfetto ora ve lo faccio vedere ecco ragazzi sono scesa di sotto per farvi vedere il profumo che voglio abbinare a ovviamente ai capi che vi ho appena fatto vedere ed è il mio adoratissimo dungeon non so se l'avete poi seguito il consiglio di andare a cercare questo profumo ma è uno delle più belle scoperte che ho fatto quest'estate naturalmente però un profumo che va utilizzato adesso perché è un profumo bello tosto non è il massimo per la piena estate assolutamente è un meraviglioso profumo invernale autunnale e io lo adoro non so non so che dire ragazzi cioè adesso poso un attimo la telecamera è meraviglioso è meraviglioso è un profumo veramente che mi ha lasciato proprio contenta e felice dopo averlo adesso scusate posiziono un attimo la telecamera così riesco a farvelo vedere bene eccolo qua naturalmente ve ne ho già parlato è meraviglioso questa boccetta pesa un botto meraviglioso tra l'altro vi sto facendo vedere in questo giornale che è to style un'altra cosa che è molto interessante che che è il mini abito nero i vestitini a tubo nero di ogni foggia molto molto di nuovo in voga per l'autunno ragazzi oltre al colore al vinaccia al bordeaux al color borgogna che vi ho fatto vedere che domineranno totalmente l'autunno anche il nero integrale total black assolutamente perfetto e molti lo abbinano ancora a un fucsia molto fluorescente come ad esempio questo sfondo che state vedendo oppure questo anche questo color giallo acido che vedete qua nell'abbigliamento in questo momento ancora va moltissimo guardate poi vi ricordo che questi verdi verde smeraldo questo scusate poso questo un attimo questo meraviglioso punto di verde questi verde scuro verde oliva il verde smeraldo saranno anche questi molto molto in voga nell'autunno quindi tenete bene presente queste due o tre dritte perché possono essere a volte è utile anche solo sapere un po come orizzontarsi poi non è detto che dobbiamo a tutti i costi poi essere perfettamente alla moda voi lo sapete che a me non piace essere tutti a pecoroni ecco uguali seguire i dettami bisogna avere estro fantasia bisogna riuscire a essere sempre anche innovativi no essere se stessi avere le proprie idee comunque questa meraviglia di profumo che trovo veramente speciale per l'autunno e soprattutto per il tipo di capi che vi ho fatto vedere in particolare proprio per i tubini neri questo qua è splendido me ne metto un po me lo voglio sentire vedete che ho la tuttina addosso oggi con la manica lunga perché caldissimo non lo fa mi sono vista castle prima che mi piace moltissimo quella serie e adesso è quasi finito per fare il video l'ho interrotto però volevo farvi questo video perché poi stasera non ho più tanto tempo devo cucinare un po e quindi voglio volevo togliermi il pensiero appunto di del video sentite che roba ragazzi dovete se lo sentite davvero ditemi che cosa ne pensate questo profumo è un gioiello è proprio vi rende felici a me mi rende felice non so che dire quando lo sento è una meraviglia è di un'eleganza vi fa sognare di vivere che ne so in una in una villa di mega lusso è splendido è splendido non so perché mi ha fatto venire in mente una villa di mega lusso però mi ha fatto venire in mente quello avete presente quelle ville pazzesche dove poi esce la tipa in accappatoio bianco col turbante in testa no una roba del genere meraviglioso poi oltretutto viene da un negozio che è veramente un negozio di abiti da uomo molto eleganti quindi non non ha deluso il profumo nel modo più assoluto bene ragazzi anzi vi dirò che poi voglio provare gli altri due o tre profumini di dungeon perché io ho preso solo questo ho sentito anche gli altri ma ero talmente impallinata appena l'ho sentito che ho detto per carità gli altri non li voglio voglio questo volevo godermi questo da solo però andrò a cercare gli altri due o tre che vanno sentiti perché ovviamente dopo aver beccato un profumo così devo sentire anche gli altri benissimo ragazzi il video di oggi finisce qui vi mando un grande bacio ci vediamo alla prossima mi raccomando iscrivetevi fatemi salire ciao un bacio